Saremo dentro Ecco, questo è il video con la pigotta Perché l'Alice voleva Fare il video con la pigotta Eccoci qua, ciao pigotta Ciao pigotta Non so se è dentro, mettila qua Ecco, e adesso cosa fa la pigotta? Eh? Cosa fai? Ti dovi a ciuccio, di ciao pigotta Ciao pigotta Questo è il video della pigotta Pa punzi punzi pa Vediamo cosa viene, ciao Ciao